Siamo soddisfatti perché abbiamo ottenuto un risultato che sembrava complicatissimo e che invece in una democrazia dovrebbe essere scontato. Tenere distinto il momento della politica dove come si sa le idee sono assai distanti tra quella nostra, quella mia e quella di questo governo e del Presidente del Consiglio. Ma che altra cosa è il dialogo istituzionale, gli accordi istituzionali e come in questo caso un accordo di 308 milioni su progetti non calati dall'alto ma progetti della città, della città metropolitana. Soprattutto vorrei sottolineare che in due settimane si è raggiunto questo risultato. Questo dà conto della volontà reciproca di raggiungere questo risultato ma anche della grande capacità progettuale di concretezza, rapidità, efficace e serietà della città metropolitana, del Comune di Napoli e di tutta la nostra squadra perché qua non c'è solo il sindaco, c'è a livello politico, c'è a livello amministrativo. Se si continua in questa direzione io credo che in poco tempo, in poche settimane, in pochi mesi si potranno risolvere anche le altre questioni di impatto istituzionale sulla città e sulla città metropolitana. Assolutamente sì. Sto dicendo questo, mi pare che sono stato chiaro nel mio intervento, questo è il metodo corretto, efficace e rapido. Cioè si si siede in un tavolo che si chiama Palazzo Chigi, dove noi veniamo convocati quando vuole il governo e noi immediatamente ci richiamo, si dialoga con le delegazioni ai massimi livelli e si possono affrontare tutti i temi, da Bagnoli al Porto, a Napoli Est, a tutto. È quello che noi abbiamo fatto quando finalmente siamo stati chiamati a Palazzo Chigi e dove non si è discusso solo di questo accordo di oggi, ma si è discusso di tutto. Questo è il tema. Poi vorrei anche dire, per precisione e per amore della verità, oggi chiaramente non si firma una legge speciale per Napoli o soldi aggiuntivi per Napoli, sia ben chiaro. Tant'è che io più per patto amo chiamarlo come dire accordo strategico organizzativo per pianificare in modo efficace le risorse che dovevano essere destinate alle città di Napoli. Poi c'è la programmazione regionale, quindi noi non siamo, come è accaduto in altre città dove ci sono state risorse aggiuntive, che nessuno pensasse che oggi c'è stato un quid pluris che è stato dato alla città di Napoli, semplicemente ci è stato dato quello che aspettava. In questo accordo quello che è efficace sono le procedure semplificate con cui potremmo immediatamente realizzare tutto quello, senza bisogno di commissariamenti, di scorciatoie, di poteri speciali e di accerchiamenti dall'alto. Hanno dialogato le istituzioni che la Costituzione Repubblicana prevede, il Governo della Repubblica Italiana, la città di Napoli e la città metropolitana. In alcuni casi anche dialogando con la Regione perché alcune questioni si sono dovute intrecciare. No, adesso abbiamo firmato questo, una cosa alla volta. 208 milioni possono sembrare tanti ma in realtà sono tanti anche gli obiettivi, quindi praticamente come li utilizzerete e su cosa avvolgerete? Noi siamo molto soddisfatti perché come molti di voi sanno e chi mi sta per ascoltare abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi e fritto il pesce con l'acqua in questi anni. Quindi per noi vedere che con questi 308 milioni possiamo discutere di riqualificazione delle scale di Napoli di cui si è parlato per tantissimi anni e mai nessuno ha fatto, che si può fare il depuratore a Napoli Est di cui si parla da tanti anni che doveva parlare la Regione e che non si è fatto. Possiamo parlare di edilizia scolastica, edilizia monumentale, finanziamenti e agevolazione all'edilizia privata, scampia, mobilità su gomma, mobilità su ferro, metropolitana. Noi siamo stati capaci di comprimere in quei 308 milioni come se l'avessimo moltiplicati, perché poi chi è abituato a non vedere mai un euro come vede 300 milioni è come un milione. Quindi riesce, li utilizzeremo veramente moltiplicandoli. dimostreremo, come giustamente ci viene chiesto, di dar conto, perché è giusto che sia così. Nel momento in cui c'è il via libera bisogna controllare, non è che il controllo popolare, non è che i soldi vengono ben spesi ed efficacemente. Noi dobbiamo vigilare affinché non ci siano annunci e quello che si firma poi effettivamente si realizza e i governi nazionali controllano se noi effettivamente spendiamo i 308 milioni. Quello che abbiamo sempre chiesto, guardate, oggi io sono soddisfatto perché? Perché se lo vogliamo proprio dire, tra virgolette, è una vittoria della città, perché la città ha difeso la città, la città ha mantenuto l'autonomia, molti di questi progetti sono stati condivisi col territorio e il governo della Repubblica italiana ha condiviso, l'avete sentito le parole del Presidente del Consiglio, che bisogna tenere distante il momento del dialogo istituzionale e le idee politiche che, come è noto a tutti, se volete le ribadiamo anche adesso, sono assai differenti, assai differenti tra il Sindaco di Napoli e il Presidente del Consiglio. Quanto è contato l'atteggiamento di accoglienza dei migranti in questa svolta nel rapporto con Palazzo Chirgi? No, nulla, nulla perché non c'entra, questo è un dialogo che ho avuto due settimane fa, però io devo dire che sono assai soddisfatto anche del riconoscimento che ieri il Ministro dell'Interno Alfano ha fatto alla città di Napoli e all'Ampedusa, credo che sia una sottolineatura importante, Napoli ha dimostrato quello che ha nel DNA, nel DNA c'ha l'accoglienza, c'ha la solidarietà, c'ha la bontà, c'ha l'umanità, c'ha il cuore grande, sa mettere in campo la gerarchia dei valori, non è che noi non abbiamo difficoltà a trovare i luoghi dove mettere le persone che vengono da quella tragedia criminale umanitaria, ma non ci importa, se facciamo carico, se del caso apriamo le case dei cittadini napoletani, questo è un messaggio fortissimo, l'Italia una è indivisibile, non può che essere una indivisibile se c'è solidarietà, se c'è invece quella fotografia che abbiamo visto in un'altra parte d'Italia, io credo che è un problema loro, perché se hai un cuore così piccino che si chiude di fronte a donne e bambini ti devi proprio porre un problema di che cos'è la vita, cioè siamo non a livello di patto di stabilità e di fiscal comeback e di altre cose di questo tipo. Ma noi non accusiamo, noi semplicemente costatiamo, cioè nel senso che anche lì quando il Presidente della Regione De Luca ci chiama al rispetto del cronoprogramma il Sindaco di Napoli fa l'applauso, ma per far partire la clessita del cronoprogramma i soldi devono arrivare altrimenti come parte il cronoprogramma. Quindi noi stiamo là, come dire, ogni giorno sul pezzo anche lì per chiedere quello che ci spetta e quindi so che stamattina sono stati anche firmati, o ieri o stamattina, io non ho avuto notizia stamattina, probabilmente la firme di ieri, dei decreti importanti che tra l'altro dovrebbero definitivamente sbloccare l'inizio dei lavori su infrastrutture importanti del progetto Centro Storico Unesco per capirci. Quindi evidentemente la difesa della città, la forte autonomia, anche quella di tenere alto il confronto democratico consente di ottenere risultati. Io l'ho sempre detto, nella democrazia quando si è chiari, quando si è convincenti, quando si dicono le cose che si devono dire io credo che si fanno dei passi in avanti. Quindi noi siamo pronti, il Presidente della Regione sa quello che deve fare, appena arrivano ulteriori soldi noi li spendiamo immediatamente. Sì, ma di che cifre parliamo? No, questo... Dopo vediamo. No, Renzi è venuto, come voi avete visto, e questa è un'altra differenza, diciamo, che c'è la mia nota puntualità. E vabbè, ma questa è una cosa diversa. È venuto in ritardo, siamo venuti subito qua, non c'è stato nessun... c'è stato solo il saluto qui. No, nessuno. I rapporti politici, lo voglio chiarire a lei, a tutti, non stiamo di fronte a una fisarmonica politica o un'altalena. Cioè, con oggi non c'è stato nessun avvicinamento politico tra il Sindaco di Napoli e il Presidente del Consiglio. Anzi, per come vedo che si andrà a costruire il dibattito nei prossimi giorni, in vista del referendum, le posizioni saranno molto distanti. Però credo che con oggi c'è un forte avvicinamento di dialogo istituzionale. Quindi io credo che con questo metodo Napoli-Città, Napoli-Città-Metropolitana e Governo, possono in pochi mesi chiudere tutti i tavoli che in questo momento sono aperti. con il metodo che ci ha portato alla firma di questo accordo. Ho detto tutti i tavoli, scusate. Tutti i tavoli, tutti. Bagnoli è tra le priorità di quei tavoli. Non c'è ancora un tavolo, no, tra voi e il governo. Come no? Bagnoli ne abbiamo parlato esattamente in questi termini, in quel tavolo a Palazzo Chigi. Ma sapete la nostra posizione quale? Con questo metodo si vola. Con altri metodi non si vola. Di Costanza, lei è una persona intelligente, ha capito chiaramente, non penso che lo debba dire in napoletano, perché sennò la considero troppo intelligente. No, non ho capito una cosa. Voi ribadite il loro commissario. L'abbiamo ribadito anche andando a Roma in visita istituzionale, che evidentemente qualche tuo collega non ha molto capito e ha pensato che era una passeggiata del sindaco che andava come Luigi De Magistris, invece andava come sindaco di Napoli e addirittura ha chiesto il rimborso del treno di seconda classe con cui è andato. Il sindaco è andato con la fascia e in quella manifestazione, in quell'assemblea, in quel corteo, dove non si è sparato nemmeno un petardo, nonostante tutti non aspettavano altro, qual era l'oggetto? Ritiro del commissariamento su Bagnoli. Cioè la posizione del comune di Napoli, guardate, non me lo fate ripetere cento volte, non cambia, la posizione del comune di Napoli è quella e oggi abbiamo dimostrato che lavorando in questo modo si vola, si decolla, in questo accordo c'è la semplificazione delle procedure amministrative, c'è quello che noi avevamo detto con la firma del 14 agosto 2014 che se non ci fosse stato il commissariamento a quest'ora già stavamo sì veramente non col costumino ma con nel pino della bonifica su Bagnoli. Oggi non c'è l'Anastasi, vorrei fare questa battuta. Perché mi dovete fare questa battuta? Io per me di chiarazione sono questo, oggi c'è un profilo istituzionale. Basta, basta. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie.